Centro Ipicoltorioni, siamo con Costanza Baccalina, lei ha appena concluso la 135, come è andata? È andata bene, ho fatto errore all'ultimo, però sono contenta perché ho finito l'ultimo concorso non tanto bene, mi sono ripresa. Che cavallo stai montando adesso? La mia cavalla storica, ce l'ho da tre anni, si chiama Gin ed è bravissima. È una cavalla che hai trovato cercandola particolarmente? L'ho provata quando ho dovuto cambiare il pony, ho provato due cavalli, lei è stata la prima, mi è piaciuta subito. Montia Monza al circolo Ipico Monzese, insieme ad Alessia, com'è come istruttore? È bravissima, lei punta tanto sull'autonomia, per cui non è sempre lì a controllarci, a seguirci, però è sempre pronta a correggerci, a darci degli aiuti, è bravissima, io mi trovo benissimo. Un errore all'ultimo ostacolo, cosa ti ha detto Alessia? Che ho fatto il mio solito errore, ancora un tempo, un ancora, un ancora, un ancora. Tra poco ci saranno magari altri appuntamenti, qual è il tuo obiettivo per quest'anno? Ritornare a saltare bene i gran premi. Perché saltavi prima con i pony? No, ne ho saltati tre con la mia cavalla, poi ho avuto qualche problema, sono stata ferma un po' io e adesso sto riniziando piano piano. Sicuramente vai a scuola, cosa stai facendo? Faccio il liceo scientifico tradizionale. Com'è? Numeri? È difficile, è tosto. Senti, complimenti e grazie mille. Grazie a voi.